a quelli con il telecomando che scotta, che si appassionano, sognano e desiderano che vogliono essere liberi di scegliere, sapere, scoprire è proprio pensando a tutti voi che abbiamo immaginato una nuova RAI ben 13 canali tra generalisti e specializzati più scelta, più qualità, grandi eventi in HD una programmazione free senza uguali in Europa da oggi, prima di spegnere la TV, contate fino a 13